Io sono Margherita Lopez di Fortune Italia e vi do il benvenuto ad Acque, un evento che dopo il successo del Teatro Olimpico nel World Water Day, con una partecipazione di oltre mille studenti, torna alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con un secondo evento divulgativo dedicato alla relazione questa volta tra le risorse idriche e il cambiamento climatico. Noi oggi vogliamo affrontare in un'ottica One Health One Water il tema della sicurezza delle risorse idriche, un patrimonio non solo in Italia che va tutelato e difeso. Questo appuntamento è promosso dall'Università di Roma Foro Italico che ci aiuterà a scoprire meglio con l'aiuto di tanti relatori tutte le potenzialità di questa risorsa preziosa per la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente messa a rischio, come dicevamo, da quello che stiamo vivendo tutti i giorni, perché ci troviamo con un mese di luglio appena iniziato, un'Italia divisa in due, con precipitazioni che stanno davvero mettendo in pericolo non soltanto le risorse agricole ma anche la salute delle persone e una risorsa che come vedremo più tardi è anche volano di benessere economico. Quindi io chiamo accanto a me per introdurre questo incontro il Rettore dell'Università Foro Italico, Attilio Parisi, benvenuto Rettore. E naturalmente il suo collega Skender Topi, Rettore dell'Università di Elbasan, benvenuto, accomodatevi qui accanto a me. E Vincenzo Romano Spica, Direttore Scientifico di Acqua e Docente all'Università del Foro Italico, che in modo piuttosto ginnico mi raggiunge, anche qui accanto a me. Allora, io vi doto di microfono e quindi, sì naturalmente Rettore, abbiamo parlato di una risorsa preziosa, una risorsa del cui impatto su salute, economia, benessere dell'uomo e dell'ambiente, voi ci aiuterete a scoprire l'entità. L'acqua, mi sentite? È sicuramente una risorsa preziosa. Lei ha accennato che pochi mesi fa è stato fatto l'evento al Teatro Olimpico, proprio perché l'intenzione era quella di sensibilizzare le nuove generazioni su questa problematica. Perché noi spesso, purtroppo, tendiamo a trascurare un pochettino il problema dell'acqua, nel senso che essendo un bene facilmente per noi raggiungibile, perlomeno per noi che viviamo in Italia, perché alcuni paesi invece hanno anche dei problemi molto importanti su questo, ma lo consideriamo qualcosa come non dovesse mai esaurirsi, che non ci potrà mai dare nessun tipo di problema. La diamo prescontata, lei dice? Assolutamente sì. Quindi invece credo che eventi come questi, il fatto che a ottobre so che ci saranno gli stati generali dell'acqua, sempre organizzati con l'aiuto dello splendido lavoro del professor Vincenzo Spica, di tutti quanti i presenti che hanno contribuito in maniera importante all'organizzazione di questo evento e che contribuiranno poi anche all'organizzazione degli stati generali. Ecco, credo che sia estremamente importante che università, mondo della politica, organizzazioni che si occupano proprio della salute e del benessere dell'uomo, del cittadino, si inizino veramente a collaborare in maniera stretta e decisa, cercando di dare informazioni corrette alle persone, e cercando di unirsi per cercare di risolvere quello che in questo momento è un problema che stiamo iniziando a vivere ma che potrebbe trasformarsi in un problema molto più serio se lasciamo passare e diamo per scontato che tutto verrà risolto dalla natura. Dobbiamo essere noi a metterci la maglia da titolari in questa partita con l'acqua. Che poi dopo quello che è successo all'Italia, certo, diciamo che è una chiamata alle armi. Non voglio parlare, speriamo di giocare meglio. Speriamo di giocare meglio. Un bel applauso al nostro rettore. E direi che goccia a goccia, rettore, rettore Topi, goccia a goccia, noi possiamo contribuire a costruire una cultura dell'acqua che varchi i confini nazionali, è così? Sì, grazie. È vero questo, mi ero preparato in un modo diverso, però il modo come l'avete organizzato va bene così. Vedi, l'Albania è un paese vicino all'Italia, noi dobbiamo molto all'Italia, la storia lo dice, anche quando si discute di acqua, di ricerca, di rapporti con le università, l'Italia è sempre in prima fila, in prima linea. E io oggi sto qui come rettore dell'Università di El Bassan, Alessandro Giovanni, con i rapporti che abbiamo con le università italiane e soprattutto con i rapporti che il mio professor Parisi e la sua università, che collaboriamo non solo sulla ricerca, ma sul modo come portare avanti i nostri studi tra docenti e studenti, portare avanti delle idee, l'esperienza che ha l'Italia di portarle in Albania, a noi, la nostra esperienza, anche per quanto riguarda oggi il tema, il tema dell'acqua è un tema mondiale, è un tema veramente che ci tocca a tutti. L'Albania ha molta acqua, si spende molto, si spreca molto. Ad esempio, se vi dico nella mia città, che ha quasi, come regione, quasi 400.000 abitanti, solo le linee che vanno sono tutte rovinate, oggi in 24 ore non c'è l'acqua, l'acqua va per terra. Va sprecato, va sprecato. E questi convegni che voi avete organizzato, anche da noi si stanno dando da fare, fare nuove linee, eccetera, eccetera, però sprecare oggi è peccato, è peccato. Anche noi come ministero, come università, abbiamo fatto un sacco di incontri riguardando l'acqua e c'è proprio un progetto tra il nostro ministero dell'ambiente e il vostro ministero italiano che stanno lavorando per sistemare un po' questi meccanismi dell'acqua in Albania e portare anche, c'è un meccanismo, c'è un progetto grosso che dall'Albania, dall'acqua, c'è proprio un centro verso sud dell'Albania per portare l'acqua in Puglia. C'è questo progetto grosso e tra i due governi so che è stato anche firmato questo progetto che l'Albania ci dà una mano perché c'è molta acqua in Albania, si spreca molto e questi centri, questi studi di ricerca tra questi relatori eccezionali ci portano avanti anche noi, così leggiamo i loro lavori, i loro pensieri, così li portiamo al di là del confine e per fare del bene. Fare del bene fa bene a tutti. Grazie e buon lavoro. Esportiamo buone pratiche, rettore, grazie mille. Allora, professore, abbiamo visto che la sfida dell'acqua è una sfida internazionale, potremmo dire globale e abbiamo anche visto che in realtà l'Italia, con gli eventi climatici che si è trovata ad affrontare, ha rischiato anche in alcune parti del paese problemi di siccità. Allora, qual è il messaggio che vuole far uscire da questo evento in cui tantissime voci ci parleranno dell'importanza di questo bene prezioso? Grazie per la domanda che non era preparata, spero di rispondere adeguatamente. Innanzitutto ringrazio tutti per essere qui oggi perché come ha giustamente detto la nostra bravissima conduttrice, Margherita Lopez, che ci accompagnerà in questa giornata e cui già da subito invito a fare un applauso e ad accompagnarla anche noi in questo percorso. Come diceva, ci sono tante realtà diverse e questa è un po' la sfida e il bello di questo evento Acque. Cioè, tanti punti diversi, tante tecniche diverse, tante conoscenze diverse per l'acqua. Quali sono le sfide e quali sono gli auspici che identificherei? Innanzitutto conoscere l'acqua, conoscerla e questo è l'obiettivo primo di queste giornate e conoscerla ed educarsi a questa risorsa è il punto fondamentale per poi poterla rispettare. Quindi questo è l'obiettivo principale. Poi è ovvio che qui accenneremo nel format particolare di questa giornata che ringrazio già tutti per aver aderito, tutti i relatori per aver aderito e adersersi prestati a questi pochi secondi in cui concentrare pochi messaggi, un po' con lo stile appunto televisivo, che arriva però anche meglio e direttamente alla gente. Però poi ognuno ha un suo background con grandissimo lavoro alle spalle. Questo evento è un giro di boa perché veniamo dal precedente al Teatro Olimpico con oltre mille persone, le scuole, i giovani e quello era specificamente diretto ai giovani. Nella prossima sessione poi si parlerà proprio dei giovani. E poi puntiamo direttamente al 30 ottobre come accennava il nostro magnifico rettore in cui apriremo gli stati generali del mondo del lavoro dedicati all'acqua perché l'acqua è anche un'occasione di lavoro, è un'occasione di qualificazione in tantissimi settori. A noi piacciono le piscine però anche gli acquedotti vanno bene e tanti altri contesti e anche gli edifici di cui oggi parleremo e presenteremo questo libro bianco dedicato alla prevenzione della legionellosi.